La nuova legge regionale sul commercio dà attuazione alla direttiva CEI 123 del 2006 e del decreto legislativo 59 del 2010 di recepimento della stessa normativa. La nuova legge cambia radicalmente il panorama precedente, infatti non si parla più di semplice regolamentazione del commercio ma si parla di politiche dello sviluppo del commercio. Infatti gran parte della legge è dedicata ai piani integrati di sviluppo, ai distretti commerciali, alle aree storiche del commercio, al recupero dei centri storici. Su questi argomenti la regione sta predisponendo gli atti attuativi e già ad esempio per i piani integrati erano usciti dei bandi di concorso per i quali anche il mio comune, il comune di Ponte nelle Alpi, era riuscito ad avere un sostanzioso contributo per lo sviluppo del centro commerciale naturale del bivio di Ponte nelle Alpi. Cosa sono queste politiche per lo sviluppo? In pratica si tratta di non calare più dall'alto dell'istituzione delle normative ma si cerca un colloquio e soprattutto la collaborazione con gli operatori del settore e non solo con gli operatori del settore ma con la cittadinanza tutta per riuscire a imporre una svolta nelle politiche commerciali. Cosa era successo precedentemente? Avevamo assistito ad un progressivo, una progressiva uscita dai centri storici, dai centri abitati delle attività commerciali con degli insediamenti extraurbani che tutti ben conosciamo e che erano diventati veri e propri centri di aggregazione. Ora la nuova legge commerciale rovescia questa impostazione e riporta tutta l'attenzione al recupero dei centri storici, alla rivalorizzazione dei centri urbani e al ripristino di tutte quelle antiche consuetudini commerciali e attività collegate all'attività commerciale che una volta costituivano il tessuto sociale ed economico delle nostre città. La nuova legge regionale quindi abbandona completamente termini come pianificazione, programmazione e si rivolge a concetti ben più pregnanti per quanto riguarda le attività commerciali. Si parla di compatibilità ambientale, di compatibilità urbanistica, soprattutto si recuperano quegli interessi di carattere generale e pubblico che sono alla base della nostra società. Dicevamo che la nuova legge regionale cambia proprio completamente la filosofia che era in atto un tempo, riponendo i centri storici e i centri urbani al centro dell'attenzione. Nei centri storici soprattutto è possibile l'inserimento di qualsiasi attività e tipologia commerciale, dagli esercizi di vicinato fino alle grandi strutture di vendita, sempre che il centro storico abbia una compatibilità urbanistica adeguata. Per quanto riguarda invece i centri urbani, i comuni sono chiamati ad una localizzazione delle medie strutture con superficie superiore ai 1500 metri quadrati e alla grande superficie di vendita, sono chiamati a questa localizzazione attraverso un'apposita variante urbanistica che va a modificare i piani di intervento. Logicamente da tutta questa operazione di localizzazione e di variante allo strumento urbanistico, al momento attuale sono esclusi quei comuni che ancora non sono dotati di PAT e continuano ad applicare i vecchi piani regolatori. Su questo tema ci sono già stati da parte dei comuni delle richieste di chiarimento alla regione perché gran parte dei comuni del Veneto, si parla del 60-70% dei comuni del Veneto, non hanno ancora adottato o approvato il PAT. Allora ricordiamo che il PAT è il piano di assetto del territorio che doveva sostituire i vecchi piani regolatori generali. La legge regionale 11 di una decina di anni fa, nove anni fa, imponeva ai comuni di rivedere la loro pianificazione urbanistica sulla base di nuovi criteri che erano molto più pressanti rispetto alla vecchia normativa. Purtroppo a distanza di dieci anni, moltissimi comuni ancora non hanno provveduto a questo adempimento. Ecco perché la regione in questa occasione, forse per sollecitare l'adempimento, questo adempimento che da anni si trascina, ha ristretto la possibilità della variante di localizzazione per le grandi strutture di vendita e le medie strutture di vendita sopra i 1.500 metri quadri solo ai comuni che siano provvisti del PAT e del piano degli interventi. La localizzazione comporta l'individuazione precisa all'interno del tessuto urbano delle aree dove è possibile insediare le grandi strutture di vendita e le medie strutture sopra i 1.500 metri quadri. La regione, con il regolamento di attuazione della legge, ha adottato la metodologia dell'approccio sequenziale. Cosa consiste questo approccio sequenziale? Consiste nell'andare ad occupare prima le aree già compromesse del territorio per arrivare poi alla fine ad occupare nuove aree con l'esclusione però di impiego di nuove aree agricole. L'approccio sequenziale è di origine anglosassone ed è stato adottato dal governo inglese nel 2005. L'approccio sequenziale consiste proprio in una graduatoria di valori attraverso i quali è possibile pensare ai nuovi insediamenti commerciali. Sono privilegiati innanzitutto i centri storici, i centri urbani e nei centri urbani devono essere individuate le aree dismesse e le aree degradate che devono essere rilevate puntualmente, perimetrate e schedate in modo da definire a priori quali possono essere le loro potenzialità di accoglimento delle attività commerciali. Nel momento in cui il Comune non individua, non trova né all'interno del centro storico né all'interno del centro urbano delle aree che possono essere adatte ad accogliere queste strutture di vendita di una certa consistenza, può individuarle fuori dei centri urbani con delle limitazioni ben precise, anche qua passando attraverso il recupero di aree dismesse o degradate, oppure con la ristrutturazione di aree già compromesse dal punto di vista commerciale. È una grossa rivoluzione questa che è stata portata dalla Regione Veneto, veramente un cambio sostanziale nella filosofia delle attività produttive. Forse ci si è accorti che con l'andare del tempo il portare fuori dai centri storici, dai centri urbani, le attività commerciali, si è arrivati a quella desertificazione non solo economica ma anche sociale, se non addirittura culturale delle nostre città, che non possono essere esclusivamente dei dormitori a servizio di altre aree con termini. Si diceva dell'approccio sequenziale, questa è una pratica già in uso e in vigore da parecchi anni nei paesi anglosassoni e lo si vede quando li si attraversa. Non abbiamo questa continuità di edificazione fra un centro abitato ed un altro ma loro intervengono sul centro già edificato, ristrutturandolo, riformattandolo e permettendo così un ampliamento anche abitativo considerevole. Questo approccio, secondo il mio giudizio, non dovrebbe essere limitato alle attività commerciali ma a qualsiasi altro tipo di intervento urbanistico ed edilizio in modo da riuscire a conservare il più possibile il suolo agricolo che pian piano si sta esaurendo. Basta dare un'occhiata dal castello di Conegliano verso Venezia e ci si accorge che non c'è più soluzione di continuità fra un comune e l'altro, fra un centro abitato e l'altro. Questo problema di un'urbanizzazione senza soluzione di continuità, oltre che nella marca trevigiana e nel veneziano, lo possiamo riscontrare anche nella nostra provincia. Di fatti, partendo da Longarone per arrivare fino a Feltre, si vede che l'urbanizzazione è un unicum che dovrebbe essere preso in considerazione e ristrutturato profondamente. Detto questo, sull'approccio sequenziale, non solo per le attività commerciali ma, secondo il mio punto di vista, anche per tutte le altre attività edilizie, bisogna porre l'accento su questa grossa novità che la Regione Veneto, con molto coraggio, ha introdotto nella nuova legislazione. Quello di porre al centro delle attività commerciali i centri storici, i centri urbani, come abbiamo detto, perimetrati e adeguatamente individuati, come abbiamo ricordato poc'anzi. Tra l'altro, bisogna ricordare che i comuni hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione sul bur del regolamento di attuazione della legge per arrivare alla variante di localizzazione delle attività commerciali medio-grandi e delle grandi strutture di vendita. La Regione si pone un obiettivo molto ambizioso in questo settore proprio perché si tratta di cambiare completamente la natura dell'attività urbanistica. Con la direttiva di liberalizzazione delle attività produttive la leva commerciale viene a mancare in questo momento e rimane solo la leva urbanistica. È questa che deve essere usata per dare un assetto al territorio. È un'operazione estremamente delicata che non può essere configurata come una semplice zonizzazione come si faceva con i piani regolatori di antica memoria ma si tratta proprio di un profondo studio della società, un profondo studio dell'assetto sociale e economico del Comune per riuscire a creare quei momenti di sviluppo che in questo momento se ne ha particolarmente bisogno. Quindi i comuni sono chiamati ad una grossa rivoluzione culturale a questo punto più che tecnica nell'affrontare il tema dell'inserimento delle attività economiche. Dicevamo di rivoluzione culturale perché non si tratta di riuscire a risolvere delle questioni del presente. Qui si tratta di ridare una visione complessiva di sviluppo del proprio territorio e le attività commerciali fanno parte di un insieme complessivo e non possono essere viste separatamente come in passato. Non si possono in definitiva stilare delle semplici tabelle con dei parametri da rispettare ma si deve valutare effettivamente qual è la visione che un'amministrazione comunale ha del futuro del proprio territorio e della propria gente. Proprio su questo punto la legge regionale interviene decisamente interviene decisamente dettando delle politiche di sviluppo come dicevamo in sede proprio di presentazione della struttura della legge. Non a caso dedica parecchio spazio a quelli che sono gli interventi integrati dove pubblico e privato si incontrano per rivitalizzare i centri storici e i centri urbani mettendo al centro non solo l'attività commerciale pura e semplice ma riprendendo anche tutte le attività artigianali di contorno, le attività culturali, le manifestazioni che possono incidere nella vita quotidiana di un paese o di una città. Un'altra novità importantissima sono i distretti commerciali che già sono stati avviati nella regione Lombardia, nella regione Emilia-Romagna, nel Piemonte anche in Toscana. I distretti commerciali ampliano ancora di più questo concetto di piano integrato e proprio su questi distretti si vedrà l'incontro fra pubblico e privato per riuscire a dare delle soluzioni a delle aree desertificate, al recupero di aree dismesse e degradate non solo dal punto di vista urbanistico edilizio ma, dice la regione, anche dal punto di vista sociale. Quindi questa è un'altra grossa novità che viene introdotta. La regione non parla più di negozi storici come nella vecchia legislazione ma parla di aree storiche ricomprendendo in questo concetto non solo i negozi di antica data che meritano di essere conservati nello stato in cui ci sono arrivati dal passato ma di riuscire a integrare proprio tutte le attività connesse a quell'area artigianali, culturali e quindi una visione molto ma molto più di più ampio respiro. Inoltre ci saranno degli interventi di valorizzazione del commercio tradizionale proprio per affermare una identità veneta, un'identità delle varie componenti della nostra regione attraverso il recupero di antichi mestieri e di antichi prodotti tipici locali. Un'altra novità assoluta che troviamo nella legge regionale riguarda le grandi strutture di vendita grandi strutture di vendita che come abbiamo detto prima se inserite in centro storico non ha bisogno di particolari interventi della regione basta solo il swap del comune qualsiasi sia la loro superficie di vendita mentre per le zone urbane e le zone extraurbane si passa attraverso la conferenza di servizi cui fanno parte la regione, il comune e la provincia. La novità più grossa sta nel fatto che mentre una volta il titolo edilizio era preponderante rispetto al titolo commerciale questa situazione viene rovesciata. Ora prima occorre avere il titolo commerciale e quindi passare attraverso tutta l'analisi di compatibilità di ammissibilità dell'intervento commerciale che si intende fare e questo sarà uno dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia. Tra l'altro in sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale si devono verificare i presupposti per il rilascio della conseguente concessione edilizia. Quindi si vede che non sarà più come prima che vengono costruiti i capannoni e poi dopo si cerca di introdurre delle attività commerciali ma saranno le attività commerciali che si porranno in prima linea per essere autorizzate prima di realizzare l'intervento edilizio. Questo riguarda solo ed esclusivamente le grandi strutture di vendita. Fin qui abbiamo visto a grandi linee e anche abbastanza sommariamente quali sono le novità di questa nuova legge regionale sullo sviluppo delle attività commerciali e del regolamento di esecuzione. Prima di chiudere mi soffermerei un attimo proprio sulle grandi strutture di vendita e su quello che la Regione ha messo in atto per poter giungere al rilascio delle autorizzazioni. Per la prima volta si parla nel rilascio delle autorizzazioni di compatibilità e di sostenibilità. Compatibilità urbanistica e territoriale, compatibilità ambientale, compatibilità anche... In questo viene inserita anche una componente sociale addirittura. Tutti questi fattori verranno analizzati nel regolamento, ci sono delle tabelle di valutazione di questi interventi. Ci sarà poi anche da valutare la sostenibilità dell'intervento dove vengono analizzate degli impatti che devono essere compensati con degli interventi di mitigazione. Il risultato di questa comparazione deve tendere a zero per poter essere ammissibile, per poter essere accettato l'intervento commerciale. Anche questo è una novità, se non proprio assoluta, ma una grossa novità. Sulla sostenibilità già si parlava nella legge 29 che riguardava la somministrazione degli alimenti e bevande, alla cui delibera di attuazione, ho partecipato alla redazione di questa delibera per riuscire a individuare le aree comunali dove era possibile inserire queste attività. In ultimo, cosa si può dire? Si può dire che questa grossa innovazione, questa novità assoluta che rappresenta questa legge avrà bisogno certamente di un periodo di rodaggio per riuscire a smussarne certe difficoltà applicative e per dare finalmente una visione europea e razionale a questo importantissimo settore della nostra vita sociale. Grazie dell'attenzione e buongiorno a tutti.